I calci alti non vanno. Volevi diventare un agente. Sono cambiata. E sei cambiato anche tu. Parlavi sempre del lavoro sul campo e ora preferisci fare gli scone. Hai un bel marsupio comunque. Guarda, ho una cosa per te. Tracciamento avanzato, funzioni satellitari. Mi hai preso un prepagato usato per comprare metta o ordinare omicidi. Non dire sciocchezze. Per gli omicidi ti posso dare io qualche nome. Ospite a ore sei e qualcuno finisca gli scone che ho fatto. Del lavoro, JJ. Parlo degli scone. All'inizio le uvette mi hanno spiazzato, ma al quarto boccone per la miseria. Devo riportarti sul campo, JJ. Quando tre anni fa sono arrivato qui. Hai fatto una promessa. Niente lavoro sul campo, ma più intelligence e famiglia. Oh mio Dio, il carro della scuola va in Italia. In Italia! L'accompagnatore. Fai sul serio? Sembra di non riconoscerti più. Te ne stai seduto lì come un avocado che invecchia e rammollisce. Facciamo partire il carrozzone. Sicuro di potercela fare? JJ, ho intenzione di divertirmi in questo viaggio. E se tu provi a impedirmelo, dovrò considerarti il mio nemico. Sto per entrare. Chiunque ci sia, spero che sia vestito. Salite. C'è una bomba sotto al Vaticano. Mi serve il mio pachiderma numero uno a capo di questa missione. Vado. Porca miseria. Colin! Considerami! È così umiliante. Ti prego, papà. Ne arriva un'altra, la vuoi? Parti, ciubè. Dobbiamo impedire che questa bomba esploda. Ma prima mi serve la password del wifi del Vaticano. Non è fuori so. No, non è vero, ma secondo voi qual è, papà? Probabile. Colin, guarda che lui è... Sì, non ce n'era bisogno. Colonnello, questa è mia moglie. È stato strano.